Siamo con Marco Caterizzano, titolare della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di CONF Commercio. Chiusura alle 23, diciamo non ancora decisa, però entro giovedì sapremo se i bar, come tutti gli altri esercizi, chiuderanno con un coprifuoco alle 23. Sì, in realtà non si capisce ancora se ci sarà l'obbligo di chiudere alle 23, ma il coprifuoco alle 23, quindi l'impossibilità di circolare dopo le 23, vorrà dire che i locali dovranno chiudere in realtà verso le 22, 22, 30, quindi anche prima. Ne prendiamo atto, seguiremo le regole, anche se non siamo d'accordo e crediamo che queste regole siano completamente assurde. I bar, i ristoranti sono diciamo quelli più colpiti, infatti lei pensa che sia per caso causa della movida e delle poche restrizioni che abbiamo avuto quest'estate? Io è da mesi che ripeto che vedo assembramenti in tutto l'arco della giornata, quindi credo che andare a colpire sempre il mondo dei giovani, il mondo notturno sia sbagliato. Se ci deve essere una lotta agli assembramenti ci deve essere sempre e non solo negli orari serali. pensare che il virus si diffonda solo la sera è una cosa credo da folli. Quindi lei pensa che i bar e i ristoranti non sono i principali fautori di questi contagi, bensì possono essere ad esempio i trasporti o le scuole? Ma ripeto, purtroppo assembramenti se ne vedono in tutti i momenti della giornata, ovunque e in tutte le situazioni. Quello che credo che sia sfuggito di mano in realtà è il fatto che non ci sia stato un progetto, che non ci sia stata lungimiranza per quanto riguarda la struttura sanitaria, cioè creare una struttura sanitaria adeguata per far fronte a una seconda ondata. Ci sono stati sei mesi di tempo, la classe politica ha avuto tantissimo tempo e già da quest'estate si è sempre fatta a trovare in forte ritardo. Ricordiamo già all'inizio quando sono stati aperti i voli aerei dall'estero, la mancanza di tamponi negli aeroporti, la mancanza di organizzazione, adesso abbiamo la mancanza di vaccini anti-influenzali, anti-plemococco, probabilmente non avremo tamponi a sufficienza fra qualche settimana, fra qualche mese o reagenti o personale sanitario per far fronte alla seconda ondata. Quindi sì, sicuramente l'individuo, le attività, abbiamo tutti le nostre responsabilità, ma la classe politica è stata la prima a non fare il suo dovere. Quindi adesso i medici chiedono alla politica delle misure più restrittive, lei è d'accordo? Assolutamente sì, perché oramai la bomba è scoppiata in mano alla politica, nel senso che la politica non è stata in grado di organizzarsi. Gli ospedali iniziano a entrare in difficoltà e quindi l'unico strumento che hanno è chiedere misure più restrittive. Noi le comprendiamo, ma siamo particolarmente arrabbiati perché crediamo che la politica in questi sei mesi avrebbe dovuto far di più. Ipotesi della chiusura dei bar e della circolazione alle 23. Che cosa ne pensi? Allora, penso che è una cosa che ci è stata comunque detta di fare dal nostro governo, quindi verrà fatta, viene fatta e dobbiamo rispettare comunque le regole che ci hanno dato. Dopodiché penso che per me caffetteria cambi ben poco, nel senso che le regole le ho già rispettate prima, quindi rispettare lo spazio, poche persone alla volta. Penso che per i ristoratori e anche per i pub sarà un problema, un problema molto serio perché comunque sappiamo benissimo che i ristoranti non chiedono alle 10 e che la gente va a mangiare anche molto tardi e quindi per loro sarà, per loro sì, sarà un problema. Rispetto alla mattina, al pomeriggio e alla sera, quanto pensi che possa influire la movida delle 23? È uguale, secondo me è uguale, perché al mattino ci sono i lavoratori e alla sera ci siamo, noi che finiamo di lavorare. Ci troviamo con Marco Valsecchi, il proprietario dell'Irish Pub di Lecco. Questa chiusura alle 23, spostata dalle 24, che non si è ancora ben capito, se partirà da domani, che cosa ne pensi? Allora sì, innanzitutto diciamo che stiamo ancora cercando di capire come vada interpretata questa ordinanza regionale, questo decreto, perché il coprifuoco alle 23 specifica che le persone possono circolare dopo le 23 con lo scopo di raggiungere la propria abitazione. Quindi se non ci sarà un intervento sull'orario di chiusura delle attività, cosa che attualmente non c'è, e quindi l'orario resterà alla chiusura alle 24, teoricamente le persone potranno appunto stare dentro il locale fino alle 24, poi uscire e andare a raggiungere la propria abitazione senza stare in giro. Quindi questo intanto è un po' il cavillo su cui bisognerà capire come muoversi entro domani. Cosa ne penso? È chiaro che per noi ha un'ulteriore limitazione che ovviamente danneggia dal punto di vista economico, questo è fuori luogo, è fuori discussione. È chiaro, premetto che tutti noi sappiamo che la situazione non è facile, perché chiaramente io stavo guardando la televisione, ovviamente i dati parlano da soli. Quindi quello che dispiace dal punto di vista del ristoratore, del proprietario di un pub è che si tende a puntare l'indice quasi esclusivamente appunto su attività come la nostra, bar e ristoranti, quando invece si chiudono gli occhi di fronte a tram, treni e bus affollatissimi nelle ore di punta e su questo tutti fanno spallucce e si girano dall'altra parte, tutti intendo ovviamente i politici quando si parla di questo. Quindi spiace soprattutto che venga vista questa, tra virgolette, Movida come causa di tutti i mali in questo momento in Italia. La Movida secondo me c'era d'estate, soprattutto a Lecco, lo sappiamo benissimo. D'inverno la situazione è ben diversa, io sfido chiunque a girare questa sera alle 23.30 per Lecco, ancora non ci sarà il coprifuoco, ma vi invito a vedere quante persone ci saranno in giro dopo le 23 questa sera. Se le contate sulle dita di una mano siete già fortunati, quindi diciamo che è una soluzione che secondo me non porterà, non sposterà purtroppo il contagio in positivo, ma credo che servirà a poco. Ringraziamo qui da Lecco FM e da Lorenzo Lanfranconi è tutto, noi vi auguriamo una buona giornata. Ringraziamo qui da Lecco